E' vero che le hanno insegnato ad andare a cavallo qui a Verona? Sono salito una volta a cavallo qui a Verona e quindi ci torno per salirci la seconda volta. In veneto da soli o con gli alleati? Sì, squadra che vince non si cambia, anzi se mai cresce si allarga, coinvolge. E quindi in Umbria abbiamo vinto con due liste civiche, in Emilia Romagna stiamo lavorando a tre liste civiche, c'è tanta gente che si avvicina alla Lega che non ha mai fatto politica e quindi sono contento di quello che stiamo facendo. Sono meno contento dei disastri che stanno facendo al governo perché da Taranto a Genova o a Novi Ligure io sono subissato, anche stamattina ho avuto incontri con imprenditori che non assumono, che licenziano, che bloccano la ricerca, che non sanno dove trovare i soldi per far fronte alle nuove tasse. Noi daremo il sangue perché a Taranto non salti neanche un posto di lavoro. Certo al governo abbiamo degli incompetenti o degli incapaci o dei complici. In Umbria Poletto? Poletto, esatto. Una cosa alla volta, ho già in agenda una giornata di ringraziamento in Umbria entro la fine di novembre, lascio che gli Umbri si diano una squadra di governo la migliore possibile, in totale autonomia. A proposito di autonomia, certo, se il modello Veneto è modello che porta altre regioni a chiedere di avere uomini e donne a disposizione, per noi è motivo di orgoglio. Poi però per gli Umbri scelgono gli Umbri, come per gli Emiliani scelgono gli Emiliani. Lei qui è in fianco al sindaco di Verona. Sai che qui in questi giorni c'è una polemica anche calcistica molto forte. Oggi però ci sono tante notizie che cominciano ad essere un po' allarmanti. La scorta alla Segre, l'attentato alla libreria, la pecore elettrica, questi casi. Cosa ne pensi? Penso che la violenza vada estirpata, senza se e senza ma. È surreale che si dibatta da ormai 4-5 giorni di qualche coro, mentre ieri siano stati accoltellati due tifosi. E c'è una breve sulla Gazzetta. Ovviamente è un attacco strumentale a una comunità, a una città, a una tifoseria, a una regione che è capitale mondiale del volontariato, della generosità. Quindi dipingere tutti i veronesi e tutti i veneti come dei trogloditi, dei razzisti, degli imbecilli, è assolutamente demenziale. Se c'è qualche cretino va isolato. Sentire a uno che non sia italiani se si ha la pelle nera è da ricovero. Però Verona è altro, il Veneto è altro. E ripeto, parlare da 4 giorni di Balotelli, che penso sia l'ultimo degli esempi da seguire per i nostri ragazzi, e sottacere la violenza che è quella dei due tifosi scozzesi accoltellati poche ore fa in Italia, mi sembra che dia anche la definizione di una classe giornalistica che vive un momento difficile. Mettiamola così, lo dico da giornalista. La scelta della scorta della Segre è la ripeto eccessiva? No, ci mancherebbe altro. Io so che il Ministero dell'Interno, che ho avuto l'onore di presiedere, valuta sempre con estrema attenzione se ci sono dei problemi e quindi se l'hanno fatto vuol dire che era giusto farlo. E Liliana Segre ha tutto il mio affetto, tutta la mia vicinanza, che sarà anche personale. Nei prossimi giorni, ma ce lo terremo per noi, negare l'olocausto nel 2019 vuol dire che sei malato e devi essere curato ma da uno bravo, quindi su questo non c'è dubbio. Che poi tutto quello che accade nel mondo sia colpa di Salvini e della Lega è surreale.